Camminiamo insieme per la salute, impariamo a prevenire la fibrillazione atriale e lo scompenso sabato 22 giugno dalle 9.30 a 13 presso Cascina Oslera Parco Lamandria un'importante iniziativa e ce ne parla il direttore della cardiologia dell'ospedale di Ceriele dottor Gaetano, senatore. Un'importante iniziativa? Un'importante iniziativa volta alla prevenzione. Noi negli ospedali non possiamo fare prevenzione quando il paziente ha avuto una visita e perché probabilmente ha già una patologia e quindi tutto ciò che la prevenzione ce la perdiamo. Queste iniziative vogliono cercare di farci uscire dall'ospedale, farci andare tra le persone e cercare di andare a intercettare le patologie cardiovascolari prima del loro esordio e cercare di risolverle prima. Quindi questo è l'aspetto più importante. L'associamo alla camminata perché l'attività fisica fa sicuramente bene e poi è un modo come un altro per invogliare le persone a venire. La persona viene per fare la camminata e nello stesso tempo viene controllata. Ecco, quindi camminiamo, preveniamo, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di divertirci un pochettino sperando che il tempo sia mite. Quindi che cosa succede sabato? Sabato succede chi vuole, dalle nove e mezza in poi fino a luna a Cascino Sleera del Parco della Mandria verrà, i medici e gli infermieri della cardiologia faranno un primo screening dell'elettrocardiogramma un controllo della pressione arteriosa, dopo di che poi saranno liberi di andare a fare una camminata di circa 3 km su un percorso inedito che l'avvocato Chiappero ci aprirà per questa iniziativa ma nello stesso tempo se anche avete dei bimbi e non sapete dove lasciarli, portateli perché con i guardia parco abbiamo organizzato anche un sistema di intrattenimento dove faranno vedere a questi bimbi quali sono gli animali che sono presenti nel Parco della Mandria quindi un aspetto che non riguarda la prevenzione dei bimbi ma che riguarda sicuramente il loro divertimento. Come si aderisce a questa iniziativa? Che è importante sottolinearlo, completamente gratuita? Completamente gratuita, basta venire dalle 9 e mezza all'una alla Cacino Slela, a Parco della Mandria e verrete registrati e potrete fare la vostra attività. Nessuna prenotazione, nessun costo, venite tranquillamente e portate chiunque vogliate.